Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliata ma non c'è più nessuno. Ho già controllato nella camera di Vanessa e non le vedo, quindi probabilmente si sono svegliate prima di me e sono giù che mi aspettano. Adesso andiamo a vedere cosa stanno facendo così preparo anche a loro la colazione. Voi cosa avete mangiato per colazione? Oggi è il primo giorno delle vacanze di Pasqua, quindi una super colazione. Aspetta Vanessa, Anastasia e Isabella. Non so se ve lo ricordate, sono arrivate le loro cuginette dall'Inghilterra, quindi Isabella ha dormito da noi questa sera e adesso è giù che mi aspetta per fare una buona colazione. Buongiorno! Buongiorno! Avete dormito bene? Sì! Wow! Buongiorno amore! Ciao Isa! Ciao! Ciao cucciola! Ciao! Dormito bene con la mamma? Sì! Ok! Allora, bambine, quale colazione vi aspetta stamattina? La crêpe con la crêpe! Esatto! Dove stavi andando? Adesso vi preparo le crêpe alla nutella. Contenta Isa? Sì! Va bene, poi stamattina ci aspettano un po' di commissioni da fare, ok? Dobbiamo andare... A prendere i jelly fruit! I jelly fruit! E la caccia tesoro! Ecco, dobbiamo aspettare perché arriva Amazon che mi deve consegnare alcune cose. Quindi non so, vediamo. E poi devo andare un attimo alla Decathlon. Bambine, non urlo perché su c'è papà. Io devo ancora comprare dei regalini perché domani... Di chi è il compleanno? Eh, sì! Di papà William! Eh, quindi bisogna andare a comprare ancora qualcosina, va bene? E soprattutto me lo dovete ricordare. Devo andare a ordinare la torta per domani. Eh, capito, va, ne? Ok? Ricordatemi, remember me all. Ok? Ricordatemi tutto. Ok? Yes! Vado a farvi le crepe. Ok ragazzi, la prima crepe è pronta. Adesso preparo la seconda, poi la terza, poi la quarta perché la mangio anch'io. E poi finalmente le bambine potranno godere di questa colazione super. Ci vediamo tra pochissimo. Voi ragazzi quale colazione fate quando siete in vacanza? Quando si è in vacanza si è più tranquilli, si è più rilassati e si può fare una colazione diversa dalla solita, almeno per noi, perché siamo sempre abbastanza di corsa la mattina. A voi piacciono le crepe alla Nutella? Ogni tanto la vostra mamma ve le prepara? Io spesso, perché loro ne vanno matte. Sì, è pronto? Accendete la luce per favore. Qui Isabella? Vane? Isa? Ok. Mettete lo zucchero a velo, brava Vane. Anni, ti sposto di qua, allora, ok? Un attimino solo. Grazie Vane. Ti aiuti? Ti avvicino? Grazie Vane. Anni, te la taglio io? Isa, tu sei capace a tagliare? Sì. Ok, tu? Sei capace? No? Vuoi che te la taglio io? Preferisci? Babini. Acqua? Ti ha da bere? Acqua? No, latte. Latte? Latte. Latte di soia. Ah, ok. Latte voglio. Lei beve il latte di soia? E noi non ce l'abbiamo, no? Isabella è già finito, wow! Era buona, amore? Sì. Eh? Quante volte la mangi in Inghilterra, la crepe? La mangi spesso? Eh, sì. Sì? Tua mamma la fa? No? Tua mamma fa i pancake? Sì. Vero? Eh, infatti, me lo diceva ieri. Tu ci sei quasi? Vabbè, tu sei abituata alle mie crepe. Eh? E cucciolina anche? Vero? Ti manca Aria? La tua cuginetta? Dopo andiamo da lei. Va bene. La sorella di Isabella. Chi è Aria? La sorella di Isabella. Eh certo, l'altra tua cuginetta, quella più piccina. Eh? Dopo andiamo a giocare con lei, a me? Anch'io faccio la mia colazione con crepe al sciroppo d'acero. Bimbe, mi è venuta in mente un'idea. Quale? Ok. E se oggi per pranzo andassimo al Burger King? Sì! Eh? Ok? Sì. Così mangiamo fuori e poi facciamo le nostre commissioni che dobbiamo fare. Va bene? Sì, ok. O di store, eccetera, eccetera. Guardate. Cosa state guardando? Ah, il nostro video quando siamo andati a Shenzaland. Bellissimo posto. Ok. A dopo. Ciao. Anastasia si cambia. Ok, ciao. Ok, Anastasia. È cambiato, vieni qui, amore. Vieni, ok. Vai qua. Wow, guarda che bellissima. Ok, adesso la tocca di... Tocca a me. Tocca a me di Vanessa. Ok. Tu ti metti pantaloni lunghi? Sì. Ok. Ciao. Ciao. Ok, Vanessina. Ciao. Wow, che bella. Allora, vieni qui. Vai. Wow, che bella. Bellissima. Adesso mi metti in un pochino. Sì, ok. Adesso... Tocca a me. Allora, Isa, ci sei? Sì, ok. Ok, a dopo, va bene? Mi vado. Ok. Va bene. Ciao. Allora, Isa, sei pronta? Sì. Che bella. Grazie. Ok. Cosa facciamo? Ah, il profumo? No. Non lo vuoi? No. No. Ok, bene. Ok, adesso cosa facciamo? Lavare i denti? Sì. Ok. Prendo lo spazzolino di dentifricio e... Ragazzi, abbiamo preso il dentifricio e spazzolino, tu? Sì. Laveri perfetto, adesso laviamo i denti. Ok. L'abbiamo. Questa è il mio. Questa è il mio. E questo è il mio. E questo è il mio. Ok. Anni! Hai. Venti. Va bene, io lavo dopo. Ok. Ciao. Ciao. Ora vogliamo fare due bebe con me. C'è la propria dentina. Te lo annasparia. Due minuti. Sì. Ok. Vediamo un minuto. Ciao. Ciao, ciao, Anni. Ciao. Ciao. Ho detto tutti e tre di lavarci i denti. Lei intanto si è anche lavata la faccia. Io invece mi sono solo messa un po' d'acqua sulla bocca perché era piena di dentifricio. A dopo. Ciao. Allora andiamo a pranzo al Burger King? Sì. Fa caldissimo oggi. Vanessa tu sei estiva. Anastasia ma togli il giubbotto. Fa caldo. Sono come... Metti l'aria. Sono come Isabella. Burger King? Sì. Andiamo. Sono vestita come Isabella. Sei vestita come Isabella, sì. Ok. Per pranzo sta. Siamo andando di Burger King. Siamo qui. Eccolo. Qui. Burger King. Per pranzo. Isabella, ordiniamo in inglese? Sì. Ok. Ok. Vai avanti tu? Ok. Chicken, italian, kinks. E' tardissimo oggi oltretutto. vero, eh? L'abbiamo fatto un po' tardi e adesso recupereremo mangiando i nostri panini. Anzi, io ho preso l'insalata. Guardate. Mi sa che sono quelli là? Guardate. Ciao. Ciao. 9, 7, 3. Ah sì? E' il nostro ordine? Sì. Sta arrivando? Anzi, ne ho detto. 9, 7, 5. Ecco. E quindi non è il nostro ordine. Quanta fame hai? Allora, com'è? 9, 7, 3. Sì. 9, 7, 3. Sì, no, sono quelli e quello lì. Ha ragione Vanessa, Vane, visto che ci sono i due Happy Meal. E' quello. Però non è neanche uscito il numero, quindi a intuito pensiamo sia quello. Mi aiutate ad andare a prendere tutti i menù? Sì. Ce la fai tu, Isa? Giri la tua casa. Non mi sento i giri? Ok. Cosa hai fatto? Guarda. Cosa hai fatto? Guarda. Finalmente, la mia insalata è super buona. Tu bevi acqua? Buon appetito. Buon appetito. Tasia, non hai mangiato niente? Il tosto lo abbiamo mangiato noi, le patatine sono lì e stai mangiando solo il dolce. Quindi, ascoltami bene, questa è stata la prima e l'ultima volta in cui ti ho portata a mangiare qua. Va bene? Non ti porterò mai più. Porterò solo Vanessa e Isabella e Aria, poverina, che sarebbe venuta volentieri. Ah, ma che cos'è? Che giochino è? Quello del miracolo. Che bello. E che cosa sarebbe, scusa? È il personaggino della miracolo. Ah, e non vedo... Si può trasformare. Ah, si trasforma in questo personaggio? Che personaggio è? Una lumaca? È una cucinella. Lei va dentro al personaggio e si trasforma. Ah, ok. Mamma, non vedo. Mamma, non vedo. Allora, intanto spostiamo i capelli dagli occhi perché non so più nemmeno che faccia tu hai. Non riesci ad aprirlo? E allora non lo mangi. Dai, cosa ci vuole ad aprirlo? Tira qui. Non ce la faccio. Io mi so cosa fa. Mi riprendi, mi riprendi. Ma cosa stai facendo? In questo posto si sente solo la tua voce. Non si vuole mangiare. Eh, sì. Mi dà più sfumare. Oggi siete state fortunate. Avete mangiato le crepe alla Nutella, Burger King. Perché questa è la nostra morning routine con Isabella. Da domani si ritorna alla normalità. No, ma io non credo che è ancora la normalità. Domani? Sì. Per comprare di papà. Non urlare, amore. Sì, è vero. Infatti dopo andiamo a comprare qualcosina per il papà, ok? Io non so. Cosa? Non me lo dico. E il fiare di io me ne va e me ne va. Dove vai? Dove vai? Ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Ciao! Ciao! Ciao!